Siete già stati messi a conoscenza delle regole del gioco, anche se in realtà non sono poi molte. State al sicuro, state al caldo, non fatevi male e nutritevi come potete. Come sapete, ora verrete abbandonati su quest'isola deserta, praticamente senza niente. Tranne che le vostre capacità e il vostro istinto di sopravvivenza. Benvenuti a Solum Island. Mi chiamo Emilia e sono la vostra conduttrice. Detto questo, l'ultimo di voi che resisterà e che rimarrà in gara sarà nominato vincitore assoluto. Adesso andate e che possa vincere il migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.